Allora ragazzi sto facendo la cucina, mamma mia ho mangiato tardissimo io, ho fatto 9 mila di volte, fatemi compagnia, è così se non mi scoccio, questa ragazza è la stemmetta che ho acquistato dalla stemma durante un poco di tempo, perché questa è qua, questa è la delle qualifine che ha fatto nemmeno 7 giorni, mamma mia, e quindi ragazze, se non mi dicano nulla le tumore, laviamo, veloce, ok ragazzi, allora, è niente, a me mi piace fare queste cose, che mi fa tenere un bannino, poi non mi preoccupo dei tumori, e quindi se non volenta, mi rilasso proprio difficile, come avuto il bluiericchio, è proprio difficile, e niente, che stavo dicendo, me la faccio girare pochissima, e si è fatto proprio tardi, perché sono stati infatti vicino a un bluiericchio, mamma mia, difficilissimo, e quindi è niente, mamma mia, fa un galgo, ecco qua, facciamo i piatti, faranno i nuovi piatti, e quindi, mamma mia, fa un galgo, ecco qua, comunque è niente, ho ragione, perfezione ragazzi, sapete perché, perché puoi fare la cucina, ragazze, lo sapete che è rilassante, quindi, non mi scoccio, se non sono con me, ho visto che il blog è salito un sacco, mi è piaciuto, perché mi piace fare questa video, però le rispondi, ragazze, scrivete tutti i commenti, perché, così, non fate fare altri video, non si faccio altri video, perché, e quindi, ecco, si è pulita, vedete, no, vabbè, ragazzi, questa spinetta è troppo bella, è bellissima, mi piace un sacco, a me piace un sacco, le cose dei terzi, tutte queste cose, mi piace, infatti guardo un sacco di canali, quando fanno i terzi, mi piace un sacco di canali, mi piace, mi piace, mi piace, aiuto, tutto fatto, mamma mia, c'è la madre per cucina, no, e poi faccio il bagno, no, 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 non la vi piace, adesso non sto facendo il bagno, no, in giro, mamma, mamma mia, che cauda, sto bevendo un tasco e qua non mi dite che l'acqua è calda non si dite unica vedete questi qua ragazzi ho comprato 4 di questi 1 euro e 50 o questi ho detto una settimana perchè o si rompe c'è l'acqua a pallini assurdo però però poi vi faccio sapere una cosa perchè per quanto riguarda la stenom purtroppo il target ragazzi ve l'ho detto il target sto valutando una che avevo fatto già parecchio tempo fa però devo vedere prima perchè io ero scritta quindi devo vedere e già avevo fatto un video e insomma sto vivendo usando quella poi vi faccio sapere perchè a me mi piace il video perchè stamattina che poi oggi è sabato io sto girando questo pezzettino che è sabato sono andata a comprare i strofinacci questi qui non mi ricordo comunque anche oggi che è domini ma non so oggi è sabato quindi sono andata a vedere questo fatto qui non mi ricordo comunque anche venerdì che andai da questo qui di detersivi tre cose non mi ricordo che avevo preso tre cose questo dice 12 13 14 c'è una cosa assurda i detersivi almeno nelle aziende e nella provvigione e quindi ragazzi quasi quasi conviene rispettare i ragazzi mamma mia cazzerati gli ho detto non mi faccio vedere questi perchè si fanno tutti i pallini ma anche questi ne ho presi 3 1,50 ma anche quelli più costosi fanno sempre la stessa fine e io che ne so cioè è questo perchè questi pallini che non sono buoni e quindi invece ci sta questa azienda che tiene questi panni poi vi faccio vedere speriamo che però io posso stare lì mi posso scrivere perchè se no non lo so solo di detersivi è difficile trovare le aziende di vendita diretta solo detersivo perchè ci sono ma ci sono ragazze ma sono sempre quelle che conosciamo già però i prodotti possono lasciare e quindi è la stessa cosa invece questa qui costano proprio come i negozi io già l'ho fatto un video se girate nove mesi fa non mi ricordo ragazze non vi ho fatto nemmeno uno spacchettamento di questa azienda quando mai perchè mi ero solo iscritta vi avevo fatto il video da dentro al sito e poi non vi ho fatto più niente unica unica grazie ragazze mi avete fatto un sacco di compagnia ci aggiorniamo è troppo bello io adoro parlare con tutti voi vi voglio bene attivate la campanella ragazze su questo canale e per le ragazze che piacciono pure gli smr attivate le notifiche sull'altro ciao ragazze ci aggiorniamo ciao